Benvenuto in questo video, oggi ti voglio spiegare esattamente come puoi trovare la pair migliore da utilizzare per il tuo trading. Allora, innanzitutto, che cosa è che stabilisce che una pair sia meglio dell'altra? Allora, nella mia esperienza ci sono tre casi. Il primo caso è la pair su cui la tua strategia performa meglio, ovvero ci sono tante pair ma ovviamente la tua strategia non può performare bene in tutte le pair. Pensi che devi trovare la pair su cui la tua strategia performa meglio, su cui gira meglio, su cui è visto dai test, che poi andremo a vedere, che l'aspettativa è positiva. Quindi di fatto questo potrebbe essere il primo caso per valutare qual è la pair migliore che puoi utilizzare nel tuo trading. Poi, il secondo caso è la pair più volatile. Cosa significa pair più volatile? La pair più volatile è la pair che si muove di più, ok? E perché ci interessa la volatilità di un asset? Perché solitamente se c'è maggiore volatilità, allora avremo maggiori opportunità. Perché ovviamente se il grafico è fermo, magari in un range da giorni, eccetera, è molto difficile trovare opportunità. Anzi, ancora peggio, è molto più pericoloso trovare opportunità. Perché sono quei casi in cui il mercato non ti sta dando una risposta ben precisa. Quindi non hai un buon vantaggio. Il terzo caso è la pair che si muove meglio negli orari in cui puoi fare trading. Perché sicuramente puoi trovare la pair che si muove meglio oggi. Ma non sai se quest'ultima si muoverà meglio negli orari in cui tu puoi fare trading. Per fare un esempio, se tu fai trading, ovviamente magari fai un lavoro particolare e puoi fare trading solo la sera dalle 10 fino alle 3 di notte. Facciamo un esempio, ok? Perché fai un lavoro particolare, magari un lavoro che la maggioranza della giornata sei totalmente bloccato. E logicamente in quel caso non puoi cercare pair che si muovono bene in New York session, ok? Oppure in London session. Perché? Perché ovviamente sono quei casi in cui quelle pair tendono a essere molto molto lente e instabili. Non ci sono scambi in quegli orari. Quindi di fatto non ti conviene fare trading su quelle pair. Per fare un esempio, una pair che si muove molto bene di notte è solitamente la valuta Yen, ok? La valuta Yen tende a muoversi molto bene nella sessione asiatica. Quello che devi andare a capire è che devi trovare anche la valuta e la pair che logicamente più corrisponde alla sessione di trading che decidi di fare. Allora innanzitutto capiamo un attimo come decidere qual è la pair su cui la tua strategia performa meglio. È molto semplice. Devi andare a fare dei test. Tu non puoi sapere se la tua strategia performa bene su una pair se non è mai testata. Devi andare a fare un test che può essere anche un backtest magari, ok? Ci sono vari test che devono essere fatti affinché tu capisca che la strategia sia valida. Ma devi assolutamente andare a fare comunque un test di base. Un test che può essere per esempio il backtesting. Vai nei dati storici, vai a backtestare quella strategia e vai a vedere effettivamente quali sono le pair che funzionano meglio. Quali sono le pair che ti hanno dato molto più riscontro, ok? Perché per esempio come ci è capitato con vari nostri studenti è che la loro strategia risultava profittevole, quella che aveva creato risultava profittevole su un mercato ma non su un altro. Quindi è molto importante, anzi è fondamentale trovare quello che è il mercato più coerente col tipo di strategia che stai utilizzando. E come fai? Ripeto, facendo dei test. Quindi andando a testare quella che è la tua strategia. Ripeto, il backtesting può essere ad esempio un ottimo test. Quindi vai a fare backtest della strategia su vari pair e poi vedi qual è la migliore. Per fare un esempio, questo è un esempio di come dovrebbe avvenire un test, ovvero fai il backtest della tua strategia su euro sd, dollaro canadese, euro yen, audi dollaro, audi cad, gpu sd. Perché? Perché così stai facendo parlare i numeri, ok? E' fondamentale far parlare i numeri e non parlare te, perché così tu capisci oggettivamente su che cosa sta funzionando meglio la tua strategia. Così una volta che avrai fatto il test capirai chi è il vincitore, tra virgolette, chi è quella pair, qual è quella pair che effettivamente mi ha dato maggiore riscontro, ok? Può essere euro yen, perfetto, allora se la mia strategia ha performato meglio in backtest su euro yen è molto probabile che euro yen sia la pair migliore da utilizzare per la mia strategia. E quindi questo è il primo caso. Guarda, andiamo a vedere il secondo caso, qual è la pair più volatile. Allora, ci sono molte persone che ovviamente non utilizzano quella che è una pair fissa, vogliono utilizzare varie pair, non fanno questo genere, perché ci sono diversi tipi di trader, non esiste solo un tipo di trader, va bene? Il punto qual è? È che di fatto per andare a capire quali sono i giorni, quali sono le pair che si muoveranno di più durante la giornata, vi basta guardare quello che è Forex Factory, quindi il calendario delle notizie, ok? Andate sul calendar e vedrete quali sono i migliori, a seconda dei giorni, quali sono le pair più volatili. Quello che dovete andare a capire sostanzialmente è che quando ci sono i bollini rossi, vuol dire che ci sono notizie importanti, quindi qua per esempio abbiamo una notizia importante sul CHF. Avere notizie importanti sul CHF ci fa capire che in quel giorno, quindi di lunedì, la maggioranza delle pair non aveva chissà che volatilità, però il CHF sembrava, poteva avere grosse chance di avere una buona volatilità. Per fare un esempio abbiamo avuto mercoledì 6 dicembre dove abbiamo avuto la notizia sul dollaro australiano, abbiamo avuto una notizia sul dollaro americano, sterlina e poi due sul dollaro canadese. Logicamente abbiamo tante notizie importanti, però quello che vediamo è che soprattutto alle 3 del pomeriggio avremo due notizie sul dollaro canadese molto molto importanti, perché quando sono col bollino rosso, vuol dire che sono notizie ad alto impatto. E quindi vuol dire che noi andremo a fare trading su queste pair, va bene? Quindi pair come USDCAD, CADYEN, EUROCAD eccetera. Va bene? Quindi questo è come trovare le pair che potrebbero avere molta più volatilità rispetto le altre. Il terzo metodo invece è la pair che si muove meglio negli orari in cui puoi fare trading. Quindi per fare un esempio, se tu hai come orario disponibile alle 3 del pomeriggio, il 5 dicembre avevi questo orario disponibile alle 3 del pomeriggio e vedevi che alle 3 del pomeriggio usciva proprio la notizia sul dollaro, perfetto, allora questo fa proprio per te. Se invece tu dovevi tradare ovviamente il 5 dicembre alle 9, logicamente del mattino eri disponibile, e beh qua non avevi nessuna notizia di alto impatto e quindi di fatto non ti aspetteresti chissà che volatilità da queste pair. Ora ovviamente questa è una tecnica, non vuol dire che il mercato è volatile solo unicamente con le notizie, il mercato molte volte è volatile anche quando non ci sono quelle che sono delle notizie importanti, va bene? Quindi questi sono i 3 modi per capire quale pair potrebbe essere migliore a seconda della tua casistica. E perché ti serve capire quale è la pair migliore? Perché ovviamente ti darà molte più chance, molto più vantaggio a livello statistico e ovviamente farai sicuramente molti più profitti o semplicemente sarai profittevole. Quindi di fatto queste 3 cose ti possono aiutare a raggiungere quello che potrebbe essere il tuo obiettivo da trader. Se ovviamente tu vuoi qualcuno che ti aiuti molto più velocemente saltandogli step ad arrivare all'obiettivo che ti sei imposto con il trading, Allora prenota una chiamata qui sotto e vediamo come poterti aiutare e analizzeremo la tua situazione, problematiche, obiettivi eccetera. Quindi se non è ancora fatto ti invito a prenotare una chiamata, sarà una chiamata molto veloce che ti aiuterà molto a capire il da farsi per arrivare agli obiettivi che ti sei imposto. Detto ciò spero che questo video ti sia piaciuto, io ti invito a mettere un like, iscrivervi al canale e ci vediamo per un prossimo video.